I think I understood most of it, it was about our bilateral, huh? Yes, and I do not want to... So you understood it? As I was present, I understood it. Ok, ok, questo lo possiamo saltare. Vuole che lo salti o vado di corsa? Sì, sì, no, I think she can... I can go fast if you wish. No. I'm fine, cara Giorgia, dear Prime Minister. Minister Fitto, Governor Bonaccini, where is he? There you are. And Mayor Zattini, Commissioner, Excellencies. So it's very moving for me to be back in Emilia-Romagna, because I vividly remember the visit last year in May, and I will never forget the devastation these horrible floods caused. Grazie, grazie, Giorgia. Cara Giorgia, caro Ministro Fitto, Governatore Bonaccini, dov'è è seduto lì? Sindaco Zattini, grazie, cari tutti voi. È veramente estremamente toccante per me tornare di nuovo qui in Emilia-Romagna, dove sono venuta in visita nello scorso maggio, immediatamente dopo le devastanti alluvioni che vi hanno colpito. e non dimenticherò mai queste devastazioni che hanno provocato terribili alluvioni. And what I remember most was these enormous amounts of mud, mud, mud everywhere, and the debris floating around, and the destruction and devastation. e quello che mi ricordo più di tutto è questo fango, 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 ovunque, e le rovine delle case andate distrutte, tutta la devastazione provocata dall'alluvione. But what I also remember very vividly was the phenomenal solidarity and men, women, even children were working and trying their best to help each other, to comfort each other, even to cook for each other, because I got this wonderful piadini bread. And I remember still today the smell, it was still warm, that showed a lot of the feelings people shared.